buongiorno a voi ci troviamo al six hour day abbiamo portato in visione e in utilizzo per le persone qua che faranno la prova un fucile su piattaforma r15 o m4 con canna da 16 pollici che il six hour 516 e viene montato con calcio astina della fab defense in europa in america invece viene montato con materiale mac pull differisce il 516 diciamo che l'evoluzione del sistema presa gas e quindi viene utilizzato un pistone qua davanti quindi un piston gas anche questo è semi piston gas perché c'è la possibilità della regolazione della valvola qua davanti chiusa o aperta a seconda dei casi viene dato in dotazione non con questi particolari che voi vedete tipo la maniglia anteriore vertical grip line point con lo sgancio rapido ma viene dato con le sue mire abbattibili che originariamente erano di metallo adesso vengono dati in materiale plastico della arms con il quick release un pulsante di sgancio rapido sia per quelle posteriori che per quelle anteriori il rail è il classico rail quadrarelle che viene dato in quasi tutte le armi adesso di nuova generazione in più rispetto ad altri rail ha la possibilità di mettere lo sgancio rapido per la cinghia sia nella parte centrale del rail che in quella anteriore del rail